Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, la prima cosa che voglio fare è ringraziare a tutte le persone nuove che si sono iscritte, voglio ringraziare invece a tutte le persone che mi seguono da più tempo, che mi lasciano dei commenti molto carini, grazie, lo apprezzo veramente tanto. E voglio anche invitare le persone che è la prima volta che mi seguono, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella delle notifiche, così da rimanere aggiornati ai prossimi video che pubblicherò. Adesso non mi resta altro che dirvi e buona visione. Allora, ho fatto un po' di spesa al supermercato Ard. Vediamo cosa ho preso. Allora, ho preso, erano in offerta due confezioni di questa bevanda all'avena. Questa la utilizzo tutti i giorni, questa è essenza lattosa, 100% vegetale, quando faccio la mia colazione. E quindi ho preso due, visto che erano in offerta. da qualche parte proviamo l'altra. Poi abbiamo preso il grande croquet, queste qua sono morbida patata deliziosa, coltipieno di mozzarella e pesciuto rotto. Questa confezione da 375 grammi. Poi abbiamo preso, nel banco congelati, queste penne a pomodoro e mozzarella. Per quando, diciamo, mi diamo un po' di fretta, abbiamo preso questa pasta così, cotta velocemente in sei minuti. Poi, questa confezione di suino, caffi di suino, eccola qua. Ci stanno 425 grammi. Eccola. Poi, questa carne qua, per farla arrosto. Questa è la carne di bovino siciliano. Poi, cos'altro abbiamo preso? Ecco, in offerta, c'erano due confezioni di braciola di pollo, questo qua, di sossato. Questo qua io lo faccio al forno. Lo faccio al forno con il pangrattato aromatizzato. Viene buonissimo. E quindi, questo infatti lo preparerò proprio per stasera. Poi, ho preso questo marluzzo al gratin, questa confezione qua. E' pronto in vaschetta da infornare con pomodoro e basilico. Questo non l'ho ancora provato, secondo me sarà buono. E poi, questi li ha presi il mio marito, due cornoblè di pollo. Eccoli qua. E quindi, via la prima busta. La conservo questo è un frigo e ci vediamo con la seconda busta. Seconda busta. Allora, mio marito ha preso questa bottiglia di succo di pera. Ecco, succo di frutto al gusto di pera. Poi abbiamo preso questa confezione di patate piccoline, patate gialle. Ideale per cucinarle a forno e a vapore, rispetto a piccoline rotonde. E quindi, una confezione di questa. Poi abbiamo preso una confezione, una bustina di limoni. Eccoli. 8 kg sono di limoni. Poi una di queste gallette di riso con il cioccolato fondente, che a me piacciono tantissimo. Poi il salame ungherese, una di salame ungherese, questa sono 100 grammi. Poi una di, questa qua, iceberg. Eccola qua. Una, invece, bottiglietta di passata di pomodoro. Ecco l'acqua, questa qua. E si si denso, si si il sole. La linea che c'è all'ard. Poi, questa di pancarrè, uno di pancarrè, al grano duro. Prendiamo sempre questa al grano duro, perlomeno la maggioranza delle volte. Passo alla seconda busta. Seconda busta c'è, vediamo, allora, questa confezione di mandarini o clementini. Vediamo cosa sono mandarini. Quindi una di mandarini, questa è un kilo. Poi, nella barilla, abbiamo preso le emiliane farfalline agliovo. Eccole, buone. Per la pastina. Ecco qua c'è la seconda confezione del latte d'avena. Poi, qui ci sono un po' di pomodori per farlo, pomodori per fare l'insalata. Sono quelli allungati. Vi faccio vedere. Questi così. Eccoli. Quindi un pochino di questi. Una confezione di cipolle alta qualità, queste dorate. Poi, una confezione di grano duro di mozzarella, ce ne sono all'interno due. Due costano un'ora e 79. Poi, dell'emmental, quindi una confezione di emmental. Poi vediamo cosa altro c'è. Del prezzemolo. Ecco, l'ho messo qui nella bustina. Quindi, un mazzetto di prezzemolo che io lo metto in un bicchiere con l'acqua e poi lo metto in frigorifero. Quindi taglio un pochino la parte finale. Lo metto in un bicchiere appunto con l'acqua e può stare in frigorifero per tanti giorni. Provatelo e vi accorgerete della lunga resistenza di questo prezzemolo. Sembrerà fresco per diversi giorni. Poi, una confezione di crollini, questi qua, con la glassa. Questi sono buonissimi. Che io accompagno insieme a questo qua, latte d'avena. Metto qualche biscottino insieme a questo latte d'avena che riscaldo. E via la terza busta, prendo l'ultima busta. Allora, una confezione di bicchieri in plastica, una confezione di questo formaggio spalmabile tipo Philadelphia, una invece della linea Alpi, fiocchi di latte classici, eccolo qua, senza conservanti aggiunti. Poi, questa qui, questa confezione di mezzo chilo di pasta della terra della Sicilia, pasta di semola e di grano duro, eccolo qua. Una confezione di piatti di plastica. E una confezione di pappalle. Anche questo è 100% grano siciliano. Si chiama Trevalli. Poi, una di olio di, questo qua, semi di mais. Poi, due confezioni qui, no, è una confezione e all'interno ce ne stanno due, di ragù alla bolognese. Poi, questo qua della linea Star. Questo risotto con i funghi e porcini e il zafferano. E poi, due confezioni di dado, ecco, che ho trovato senza glutammato aggiunto. Non è facile trovarlo. La maggioranza hanno, tutti quanti, hanno all'interno il glutammato. Invece questo non ce l'aveva e quindi ne ho prese due confezioni, visto che non lo trovo facilmente. Poi, una piccola snack di questo qui, diciamo, per fare una merendina, 100% di frutta, frullata, mele e banana. In uno di questo è un altro di risotto alla milanese. Con questo ho finito. Tutta questa spesa, ecco qua, questo è lo scontrino. Ho speso 64,06 euro. Ciao! Questo è il pollo dissossato, che prima lo bagno un po' nell'olio e dopo nel pangrattato aromatizzato. Dove c'è il prezzemolo, un po' di pepe, anzi, sale, insomma, e quindi viene molto gustoso così. E poi lo metterò al forno. Viene veramente molto molto buono. Per finire, poi sopra la teglia qui metterò un filo d'olio. A posto e pronto per andare al forno. Ciao! Allora, ho appena fatto il mio ordine. Imi, eccolo qua, questo è il catalogo attuale. Ho ancora il computer acceso perché l'ho appena fatto, vi faccio vedere. Eccolo qua. E quindi non vedo l'ora che mi arrivi il pacco. Quindi, se non in questa settimana, in prossima settimana mi arriverà il pacco. Quindi vedrete il mio spacchettamento di mi. Ci sono iscritte diverse persone, anzi parecchie persone, approfittando della promozione che c'è entro domani. Oggi ne abbiamo 24 e termina questa campagna domani giorno 25. E la proporzione che vi siete persi nel video precedente consiste, cioè, in iscriversi in questa azienda, imi, effettuare un ordine minimo di 40 euro prezzo da catalogo per poi pagarlo 18 euro più le spese di spedizione. Le spese di spedizione sono 4,99 euro o 5,99 euro. Si può scegliere quindi tra due corrieri. Quindi un corriere costa 5,99 euro e uno 4,99 euro. Quindi, in base al corriere che sceglierete, pagherete questa cifra. E quindi potete anche voi aderire a questa promozione. Ancora siete in tempo, quindi c'è il tempo oggi e domani. È tutto domani che terminerà appunto questa promozione insieme alla campagna, questa qui, la campagna numero 1. E poi da dopodomani inizierà la campagna numero 2, con tante altre novità. Io ho voluto ricominciare a lavorare in questa azienda perché ho visto proprio l'aumento che ci sono stati di prodotti. Inoltre, la qualità dei prodotti a me è sempre piaciuta, mi sono piaciuti perché li avevo provati l'estate scorsa e mi sono piaciuti. Poi avevo smesso perché c'erano pochi prodotti. Ma adesso che l'azienda ha aumentato la quantità dei prodotti e non solo, in ogni campagna ne metterà sempre di più, ci saranno sempre più prodotti, aggiungerà anche accessori e tante altre belle cose perché già ho visto delle anteprime. E allora questa cosa mi ha incoraggiato di nuovo a continuare in questa azienda perché già gli avevo il codice aperto e l'ho già appunto iscritta. E quindi poi i prezzi sono veramente buoni, sono ottimi, considerando che sono dei prodotti di ottima qualità, hanno dei buoni prezzi. Poi visto che c'è anche aggiunto il make-up, quindi sono veramente molto belli, allora ho deciso di nuovo ritornare in questa azienda con la quale già, devo dire, mi sta dando tante soddisfazioni visto che tante persone si sono iscritte. Quindi approfittando proprio di questa promozione. E quindi, se volete anche voi delle informazioni, in merito, scrivetemi. Io lascio in infobox tutti i miei dati, le mail, potete contattarmi tramite Facebook, su Messenger, dove preferite. Potete anche, se volete, vi fa piacere iscrivervi su Instagram, vi trovate anche su Instagram con floriana5917. Quindi potete anche contattarmi lì come preferite e così vi do una spiegazione riguardo a questa azienda. Inoltre, se volete invece scrivervi autonomamente, lascerò anche il link in infobox per registrarvi voi stessi. Adesso vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Ci vediamo presto con un altro video. Ciao!